Tifosi arancioneri, fine settimana ancora di pallavolo giocata, ne parliamo con Suiva Tonnella e Francesca Parise. Ciao ragazze. Ciao. Allora, partiamo da Francesca. Francesca, sconfitta in casa contro il livello Lavole, siete partite molto bene. Poi cosa è successo? Poi cosa è successo? Si è incalate molto caratterialmente, ci siamo fatte aggredire da loro, comunque è loro una bella squadra. Ma quel sesto centrale ci ha fatto tanti punti che potevano difendere, alcuni fattoni più. Niente, abbiamo mollato e purtroppo non siamo riusciti a portarci a casa. Sveva, passiamo alla prossima parità contro l'Alba Volley, avete vinto l'andata, un avversario che conoscete bene. Comunque una sfida difficile in quanto un girone è sempre molto equilibrato. Sì, assolutamente, ora siamo ancora più aggrediti da questa sconfitta e speriamo proprio di rifarci. andiamo lì con un problema che abbiamo due squadre e speriamo proprio di prenderci, prenderci tre punti che ci vediamo. Vi chiedo un'ultima cosa, fuori programma, qual è il vostro obiettivo? Si parla di playoff, qual è il vostro obiettivo? Assolutamente, direi. Assolutamente, cerchiamo di vincere come tutti e portarci a casa questi sei punti nelle prossime due partite. Speriamo. Vi ringrazio ragazze, bocca al lupo. Grazie, ciao.